Mentre il Consiglio regionale varra misure a sostegno di famiglie e imprese per contrastare l'emergenza Covid-19, le associazioni di Bed and Breakfast dell'intero territorio regionale segnalano la situazione drammatica che sta vivendo il settore a causa delle cancellazioni e del crollo catastrofico delle prenotazioni registrate in quest'ultimo periodo e lancia un appello alla Regione affinché si prenda in considerazione l'istituzione di un pacchetto di misure che prevedano un reddito d'emergenza, un accesso straordinario al credito bancario che generi liquidità immediata privo di troppa burocrazia e nell'eventualità altri ammortizzatori sociali che si ritengano opportuni. Si tratta di strutture facenti parte, a pieno titolo del settore turistico ricettivo extra alberghiero, si legge nell'appello rivolto alle istituzioni, svolte in forma non imprenditoriale, di conseguenza prive di codice a teco e dunque escluse da qualsivoglia forma di sostegno, bonus e benefit previste dal decreto Cura Italia o da altri provvedimenti legislativi a sostegno delle imprese. Un settore che rappresenta nel territorio sardo, interno e costiero, un'importantissima risorsa per continuare a vivere e valorizzare quei paesi che altrimenti andrebbero incontro allo spopolamento. Si tratta infine di attività svolte con notevoli sforzi e sacrifici economici, talvolta uniche fonti di sostentamento per intere famiglie.